Il vortice di bassa pressione che ha provocato la terribile alluvione in Emilia Romagna si sta spostando sull'Europa occidentale. La pressione atmosferica sul nord Italia sta aumentando, questo favorirà un generale miglioramento del tempo sul Vicentino con aumento termico. Venerdì la giornata inizia con cielo sereno poco nuvoloso in pianura, sulla fascia prealpina le nubi saranno più presenti e nella seconda parte della giornata il tempo rimarrà invariabile con maggiore solleggiamento in pianura. Temperature in leve aumento, estremi tra 12 e 23 gradi. Sabato tempo in ulteriore miglioramento, poche nubi, lungo i rilievi, clima gradevole. Domenica giornata di bel tempo, cielo sereno poco nuvoloso su tutta la provincia. Il ferro termico salirà di quota fino a 3.500 metri. Lunedì ancora tempo buono, martedì previsto un peggioramento di origine atlantica con calo termico. Grazie. Grazie. Grazie.